Buongiorno a tutti, sono Costolo Nuffrey e in Siemens mi occupo del supporto tecnico per quelli che sono i sistemi di alimentazione SITO. Siamo all'interno del PA Track, Process Automation Track, e per quanto riguarda i prodotti da noi esposti abbiamo oggi un'architettura top di gamma che comprende il sistema di alimentazione PSU-8006, ridondato quindi con due dispositivi collegati in parallelo, e un modulo di IODI PSU-202U. Qual è la peculiarità di questo sistema, in particolare dell'8006? Il fatto che grazie alla comunicazione Profinite Internet ci permette di interfacciarci con quelle che sono architetture di processo, quali PCS7, in modo ottimale. A che cosa serve questo? Per garantirci una diagnostica, quindi avere dei valori costantemente monitorati in tensione e in corrente anche per quanto riguarda la fase in ingresso, e ci dà il vantaggio di avere in ogni momento una situazione sotto controllo, quindi di intervenire in modo ottimale in caso di anomalie o di guasti.